Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video della noia craft Allora ragazzi, erano rimasti nello scorso episodio che stavamo lavorando al nostro sistema di craft infinito di argilla Si è posto un problema però alla fine, che non potevo mettere l'autocraft di... dell'argilla perché ci volevano i secchi d'acqua Ora faccio subito vedere, clay, dove sta? Clay, 6, 8000 clay, eccolo qui Il problema del clay è che serviva questo secchio d'acqua, vedete? Cioè due slag, terra e secchio d'acqua E nei commenti è arrivato il cazzo del genio di Ulisse che ha detto, metti l'acqua nel tank e fai il craft con l'acqua nel tank E io ho detto, Ulisse stai zitto? No, non gli ho risposto ragazzi, ma praticamente Si, è vero, si potrebbe fare, ma no, io non voglio farlo Secondo voi perché ho detto di fare la cosa della fattorizzazione? Perché devo fare l'autocraft della fattorizzazione Tutto sta a fare, poi andrà tutto spostato dall'altra parte perché devo metterlo, si oddio ho lanciato il mouse troppo lontano Devo spostarlo dall'altra parte perché devo metterlo dentro un altro shrinking device Quelli che mandano un'altra dimensione, cosa varia, capito? Un'altra cosa che è successa è questo qui Leggete in alto al centro Uno nei commenti mi ha fatto notare che l'induction smelter sono resonant Infatti è vero, e no, non ho citato, e sì, me li sono givvati Me li sono givvati perché quelli che avevo sono usciti buggati E che devo fare, se la thermal ancora ha buggati non posso fare Li ho craftati, sono usciti i buggati, cioè praticamente non mi è uscito l'induction smelter, mi è uscito il coso Come si chiama? Questo qua Il fluid transposer, al posto di induction smelter Il crafter è giusto, ho ricontrollato tutti i materiali e con l'inver l'ho fatto Perché se voi date a vedere Thermal Dove stanno? Il fluid transposer Vedete come si fanno? Al posto del vetro ci ho messo l'inver Non avevo il vetro E mi è uscito, mi è uscito quello Non so perché Non me lo chiedete, non lo voglio sapere Comunque, li ho buttati, mi sono preso altri due E sono usciti resonant perché non me ne sono accorto Capito, perché se tu li prendi alla neve sono resonant effettivamente Ci ho pensato dopo, ma molto dopo Comunque, ho spento un igneus extruder perché produceva troppa cobblestone Effettivamente un igneus extruder produce tanta cobblestone quanto riescono a macerarne due polverizer e mezzo Quindi due igneus e tengono su cinque polverizer Quindi non ho lasciato acceso solo uno E mi avanza pure parecchia cobblestone che sta andando nella cesta della cobblestone Sto facendo una valanga di sabbia perché due polverizer fanno più sabbia Di quanto ne consumano due induction smelter Esattamente il doppio in teoria Quindi mi si sta riempiando la cesta della sabbia Che è una di queste Eccola qui Quindi avrò tantissimo vetro ragazzi La sabbia mi servirà Sto facendo tantissime cose utili La sabbia finalmente ce l'ho Miracolo Avrò del vetro E basta tutto qua Comunque Cominciamo con l'autocraft della fattorization Allora ricordate nello scorso video c'era il problema del 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 Autocraft No era crafting C'era il problema del Dark iron Ragazzi ho cercato nel mondo Ho fatto un macello Ho spaccato Ho distrutto Il dark iron non si trova da nessuna parte Non si trova Non lo so perché In teoria è raro quanto il diamante Forse un po' Il penino più raro E non c'è Ho fatto un macello Ho tirato tnt a mazzetta Comun demente Non ho trovato nemmeno un pezzetto Di dark iron E anche nella twilight Dovete sapere ragazzi Che il dark iron è studiato Per trovarsi per lo più Nella twilight Non lo so perché Hanno scelto così Quelli della fattorization Chiedetelo a loro E non c'è Nemmeno un pezzetto Non lo so perché E quindi io ho aggiunto Una recipe per mia L'ho fatta così Praticamente il titanio È raro più o meno Quanto il diamante Quindi ho considerato Il titanio Diventa dark iron E in più ci ho messo Il nervoso Dove lo mette nella crafting Nel craft ci si sta Un titanio con Otto di ferro Si può fare Ok andiamo subito A craftarlo Prendiamo un po' di titanio Effettivamente a me non è Che me ne serve tanto Di dark iron Eh Poter Ah oddio Pensavo di aver finito il titanio Ho sparaflesciato Che cosa brutta Ferro E andiamo a metterlo subito Nella crafting Allora dark iron al centro E ferro tutto intorno Guardate Semplicissimo Ta da Dark iron Ok si Starry type l'ho fatta io Allora problemi? No problemi? Ehm Una volta che abbiamo il dark iron Possiamo craftare questo Cosa qui Ci servono dei pistoni Pistoni E crafting table Crafting table? Non c'è una crafting table Ce l'ho crafting table extra Io ce l'ho un milione Eccola Una Due Solo? Ne servono un po' di più Allora Il sistema di crafting Della factorization È un po' meglio Se si vuole dire un po' meglio Un po' meglio Degli altri sistemi di crafting Perché? Perché non ha limiti Agli oggetti Che si possono usare Vuol dire the what? Sì esattamente Praticamente io devo fare un craft Con Quattro oggetti Avete presente il clay? La clay? Io prendo la clay Clay È un craft con quattro oggetti Cioè secchio, terra E due slug Invece di fare una crafting Da 3x3 Faremo una crafting Da 2x2 Esatto Noi possiamo scegliere Le dimensioni Della crafting Interessante questa cosa Eh? Vi piace? Non vi piace? No Vabbè E adesso vi faccio subito vedere Perché questa costina Che è molto carina Che è simpatica Questo fa qui Questo fa qui Questo fa qui Bam 6 ne ho fatti E non vanno bene 6 Me ne servono di più Vedi? Già ho sbagliato Me ne servono 8 Perché fare 2x2 Ne servono 8 Perché è 2 2x2 4x8 Sì È giusto 8 Pistoni Dark iron Ah è vero Me ne servono 8 Ah quindi ho fatto 8 dark iron Per caso Giustamente è tutto per caso È tutto studiato Scherzato E praticamente Sì Ce ne servono 8 Per fare una 2x2 Invece per fare una 9x9 Ne servono 3x6 12 Che vabbè Questa è roba avanzata Che poi vi farò vedere più avanti Allora Perché ne abbiamo fatti 8 Ve faccio subito vedere L'unica cosa è che io qui Vorrei fare una cosa simpatica Vabbè È che mi dispiace Metterlo qua dentro Perché volevo farlo direttamente Dentro lo shering device Vabbè io lo metto qui Poi off camera Me lo sposto Allo shering device Adesso vi faccio vedere solo Come funziona Allora Intanto spacchiamo per terra Allora Guardate cosa faccio 1 2 Di lato 1 No non va bene Ve lo dovete far vedere bene Dovete capire bene perché Allora Cobblestone Mettete la cobblestone esterna Guardate cosa faccio Vedete Storto non va bene Va bene questo Guardate bene cosa faccio Clicco sul blocco che c'è dietro Non sbagliate mai ragazzi Perché sennò viene storto Sul blocco dietro Sul blocco dietro Sul blocco dietro Storto Vedete sbagliato Non va bene Devono venire con Il simbolo della crafting table Rivolti verso l'interno Vedete 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 È tipo È tipo una Crea tipo una dimensione parallela In cui si creano le cose Guardate Così Guardate No non va bene Sbagliato Che cosa ho fatto Che cos'è questo Robbio Ok Così è molto meglio Perfetto Vedete cosa ho fatto Ho messo tutti questi Autocraft Della factorization Che si chiamano Compression crafter Esattamente ragazzi Rivolti verso l'interno E in questo caso Siccome la mia recepia È una 2x2 Ho fatto una cosa 2x2 Che cosa c'è di 2x2 In minecraft La crafting table Poniamo caso Io voglio fare una crafting table Vi faccio vedere un esempio Di recepia Molto semplificato Quindi prendo Crafting Guardate Faccio una crafting Guardate cosa faccio Molto attentamente Prendo una chest La metto accanto No 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 Non così Non così Spacca Non ce l'accetto Spacca Spacca Entra la cobblestone È entrata Io lo sapevo Lo sapevo Ferma Rempito di cobblestone Basta venire qui cobblestone Non c'è motivo Torna dietro Ok La metto dietro Davanti Qui Ok Il bello di questa crafting Ragazzi è che ha Collegamenti in tutti i lati Mi spiego Se io la chest la metto qui La metto sopra La metto all'angolo La metto qui La metto dietro La metto sotto terra Ovunque la metto Basta che sia attaccata A uno di questi blocchi L'oggetto finirà sempre nella chest È fighissima Sta cosa mi piace In più Posso fare Segnale redstone Perché segnale redstone Segnale redstone Per attivare Vedete Guardate se do segnale redstone Non va qua Non manco per il ciazzo Non manco per niente Ce lo posso fare a un bottone Non posso fare il bottone Mi serve cobblestone Mi serve stone 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 vado sopra Mi serve un po' Quanto sei brutto Fiumio Serve Wow 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 Ecco 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 Io lo sapevo Ecco Io lo sapevo Stone Allora Facciamo una bella pressure plate Facciamo anche un bel bottone Andiamo di sotto E proviamo a usare il bottone Vediamo che succede Metto il bottone Lo clicco Non succede niente Perfetto Ok Quindi non avete capito niente Perché ho spiegato Struzzate Non va ragazzi Perché non va Perché non c'è nulla da craftare Andrà solo nel momento in cui troverà qualcosa da craftare E in questo caso non c'è niente Come funziona questo crafting Vi faccio vedere Guardate Io prendo proprio i blocchi Esattamente i blocchi di legno Guardate cosa faccio Vedete che Perché è murato Guardate perché ho murato Perché non succede niente Perché non succede niente Oh Non mi dite che nella versione 1.7.10 È cambiato Praticamente ragazzi Una volta fatta questa cosa Dovrebbe partire l'autocraft E craftarci Il nostro La nostra bellissima Crafting table Non parte Perché dico ciò Vedete Le quattro tavole di legno È come se fosse una crafting E faceste così Questa fa la stessa cosa Però strano che non va Può darsi che è stato fixato nel 1.7.10 Può darsi Che quindi hanno deciso di cambiare sistema Non lo so questo Come faccio a sprovarlo? Vediamo subito Praticamente c'erano due modi Per craftare con questa autocraft Uno Mettere esattamente i blocchi Quindi tu mettevi dietro Tipo Alle spalle Mettevi dei deployer Che buttavano fuori i blocchi di legno O degli autonomous activator Che piazzavano i blocchi di legno Attivavi l'autocraft E si creava Il craft Che avevi richiesto Con i blocchi piazzati Un secondo sistema Per fare questa autocraft Era con le barrel Eh sì ragazzi Perché non solo riconosce I blocchi puri Ma riconosce anche le barrel E io vorrei fare Un paio di barrel Lì Cos'è questa roba? Acacia 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 O acute barrel Factorization Andiamo a prenderlo acute Va Andiamo a prenderlo acute Va Allora